La società in predil di Roma ha preso possesso ufficialmente della struttura delle terme di Raiano a darne notizia e il sindaco del centro peligno Marco Moca. Finalmente si aprono prospettive di sviluppo per Raiano, per l'intero comprensorio. Siamo certi che nuovi acquirenti che ringraziamo per aver scelto il nostro territorio per il loro investimento riusciranno a sviluppare un progetto sostenibile per il futuro della struttura. È vero che la notizia circolava da un po' ma l'ufficialità l'abbiamo avuta solo oggi pomeriggio quando inizia la festa del nostro santo patrono Venanzio. Siamo un paese laico, lo restiamo, ma che bella coincidenza commenta il primo cittadino. Le terme quindi cambiano gestione dopo la complessa vicenda del precedente gestore che era finito nel mirino della procura recentemente anche della Corte dei Conti.